Ferrovie dello Stato ha presentato il piano di investimenti per i prossimi 10 anni. I fondi a disposizione ammontano a 190 miliardi di euro, 20 miliardi sono per la Sicilia. Nel futuro dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia ne ha parlato ieri sera su Rete4 a Quarta Repubblica il governatore siciliano Nello Musumeci, pubblicati già i banni per realizzare due termovalorizzatori nell'isola. Blitz antimafia a Palermo eseguiti dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri 31 arresti. E' stato presentato nel pomeriggio di ieri a Roma il centro regionale siciliano, epidemie e pandemie, monitoraggio epidemiologico e formazione del personale sanitario, le attività che verranno svolte al suo interno. Di servizi AST nel comune di Motta si è tenuto oggi un avvertice che ha coinvolto la dirigente dell'azienda siciliana Trasporti sulla provincia di Catania. Oltre 600 mila prodotti tra CD e DVD e articoli da fumo sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania perché sprovvissi delle necessarie autorizzazioni. Controlli della Polizia Librino, quartiere di Catania, gli agenti del commissariato locale hanno denunciato 12 persone e accertato 9 casi di evasione dei domiciliari. A Magnaci i carabinieri hanno denunciato due brontesi perché detenevano nelle loro auto armi. Ultima delle giornate rapisardiane 2021-2022 al Mario Rapisardi di Paternò la moda al tempo del Vate Etneo al centro dell'incontro. Sabato alle ore 18 a Santa Maria di Licodia si trarà l'evento di mappatura di comunità, protagonisti cittadini che metteranno in campo idee su come migliorare il paese. Buonasera, ben trovati per questa edizione del nostro telegiornale che apriamo partendo e parlando di trasporti. Ferrovie dello Stato ha infatti presentato il piano di investimenti per i prossimi dieci anni. I fondi a disposizione ammontano a 190 miliardi di euro, 20 di questi sono destinati alla Sicilia. Un piano da 190 miliardi di euro di investimenti in dieci anni. Il gruppo Ferrovie dello Stato è pronto a lanciare un piano strategico di rilancio sul fronte della mobilità nazionale guardando soprattutto al sud Italia. A presentarlo l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris e la presidente del gruppo Nicoletta Giadrossi. Presentati anche i numeri relativi all'impatto occupazionale previsti, pari a circa 40 mila assunzioni nell'arco dei dieci anni. Una fetta importante di questi fondi, pari a circa 50 miliardi di euro, sarà destinata ad ANAS, che si muoverà su tre direttrici principali, sviluppo della rete viaria, manutenzione straordinaria e altre attività necessarie al completamento del piano. Per quanto riguarda il sud, tra gli interventi è prevista la realizzazione dell'alta velocità per la Salerno-Reggio Calabria. In Sicilia gli investimenti destinati nei dieci anni ammontano a circa 20 miliardi. L'intervento più rilevante è il nuovo collegamento veloce Palermo-Catania-Messina. Tra gli altri interventi ci sono quelli che interessano il annodo di Palermo, Passante e Anello, il annodo di Catania e il potenziamento del collegamento aeroporto Fontana Rossa, il ripristino ed elettrificazione della linea Palermo-Trapani-Via Milo, la Caltagirone-Gela, il bypass di Augusta, il potenziamento della linea Palermo-Agrigento-Porto-Empedocle, il collegamento con l'aeroporto di Trapani-Birgi. Ammontano invece a circa 6 miliardi di euro le risorse destinate alle infrastrutture stradali. Tra gli interventi principali il collegamento Ragusa-Catania, la SS-121, tratto Palermo-Rotatoria-Bolognetta, la SS-626 per il completamento della tangenziale Gela, la SS-284, la Adrano-Paternò. È un piano ambizioso e pieno di sfide che stiamo affrontando da tempo per uno sviluppo sempre più sostenibile delle infrastrutture nella mobilità al servizio del Paese, ha dichiarato il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri. Adesso cambiamo argomento del futuro dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia. Ne ha parlato ieri sera su Rete 4 a Quarta Repubblica il governatore siciliano Nello Musumeci. Pubblicati già i bandi per realizzare due termovalorizzatori. Serviranno, ha detto Musumeci, a liberarci dalla schiavitù delle discariche. Il futuro dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia al centro del dibattito politico e non solo. Ieri sera su Rete 4 a Quarta Repubblica ne ha parlato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Lui punta tutto sui termovalorizzatori per liberarci dalla schiavitù delle discariche. Dice che per questo sono già pronti i bandi per fare diventare realtà due impianti nell'isola attraverso i project financing. Decidiamo di chiudere tutto quanto il petrolio, non prendiamo più il gas, facciamo un'alternativa, facciamo dei termovalorizzatori e cerchiamo di costruire un'alternativa al gas russo. Il termovalorizzatore produce una energia che non è sufficiente a poter compensare l'assenza del gas, ma certamente in una terra come la Sicilia, ma anche a Roma per non andare lontani, serve a liberarsi dalla schiavitù delle discariche. No, saranno i privati a farlo. Noi abbiamo pubblicato un brand utilizzando il project financing. Lei tenga conto che quando sono arrivato cinque anni fa alla guida della regione siciliana ho trovato 511 discariche. Cioè mentre in ogni parte del mondo il rifiuto diventa una risorsa, in Sicilia non solo è un problema, ma diventa anche un terreno comodo sul quale criminalità organizzata e certa politica molto spesso si incontrano. È semplice farlo oggi. Già il progetto è avviato. Quindi questo è un lato positivo. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, ma l'altro lato positivo è l'energia rinnovabile che ci offre la grande quantità di sole e di vento che abbiamo in Sicilia. Cioè paradossalmente in questo contesto di transizione, a prescindere dalla guerra che comunque ha dato un impulso, la Sicilia o il Sud Italia che erano marginali rispetto al continente oggi assumono una posizione e un ruolo strategico. Quanto tempo ci vuole per poter fare queste operazioni? Un termo utilizzatore se fatto da un privato non richiede meno di 3-4 anni, ma se fatto dal pubblico servono 7 anni. Ed è previsto un costo per tutti e due i termo valorizzatori, per quello della Sicilia orientale e occidentale, di circa un miliardo di euro. Adesso la pagina di cronaca Maxi Operazione Antimafia della Polizia di Stato e dei Carabinieri a Palermo. Arrestate 31 persone, boss e gregari del quartiere Brancaccio. Blitz Antimafia a Palermo. La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare i danni di 31 persone, accusate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, detenzione e produzione di stupefacenti, detenzioni di armi, favoreggiamento personale, distorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Sono 29 gli indagati finiti in carcere, due quelli sottoposti ai domiciliari. Le indagini coordinate dalla DDA hanno consentito di fare luce sull'organigramma delle famiglie mafiose, dei mandamenti di Ciaculli e Brancaccio, che comprende clan come Corso dei Mille e Roccella. I provvedimenti sono stati eseguiti a Palermo, Reggio Calabria, Alessandria e Genova. Nello specifico le investigazioni hanno fatto chiarezza sui nuovi vertici del clan di Brancaccio. È emerso che dopo un'operazione condotta nel 2019, le famiglie mafiose hanno tentato di riorganizzarsi. Identificati i capi, gregari e soldati affiliati a Cosa Nostra, che avrebbero compiuto decine di estorsioni nei confronti di commercianti e imprenditori, nonché gestito le piazze di spaccio di Brancaccio. Una parte del provvento delle attività illegali sarebbe stata utilizzata per mantenere i congiunti dei detenuti. La Polizia Giudiziaria ha eseguito un sequestro preventivo del capitale sociale, di beni aziendali, dei locali, di alcune imprese, per un presunto valore complessivo di circa 350.000 euro. I beni sarebbero stati intestati a prestanomi di mafiosi. Al centro dell'inchiesta una rivendita di prodotti ittici, due rivendite di caffè e tre agenzie di scommesse. Scendendo nei particolari del blitz sono state documentate 50 estorsioni e danni di operatori economici. Coinvolto anche un venditore di sfincione, che dopo aver trovato i lucchetti bloccati, si è rivolto a uno degli indagati per la cosiddetta messa a posto. Un imprenditore edile si è interfacciato con la famiglia di Brancaccio per poter costruire appartamenti senza avere problemi. L'uomo inoltre voleva acquistare un terreno e ancora prima avrebbe chiesto la protezione alla famiglia mafiosa per non dover subire furti, rapine o danneggiamenti. Documentati i sopralluoghi degli uomini del racket e richieste di pizzo, pure in cantieri vicini a un commissariato di polizia. La droga rappresentava una fonte di guadagno importante, individuate se i piazzi di spaccio dello Sperone, tutte direttamente gestite o controllate dai componenti del clan. Il provento sarebbe di circa 80.000 euro settimanali. Le cosche, secondo quanto scoperto dall'attività investigativa, si rifornivano di droga dalla Calabria. Sono stati 16 arresti in flagranza per detenzione di sostanza superfacente nel corso dell'operazione. Sotto sequestro circa 80 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana per un valore sul mercato di oltre 8 milioni di euro. Dalle indagini è venuto fuori che l'organizzazione mafiosa avrebbe imposto le cosiddette sensalerie, mediazioni sulle compravendite di immobili nel territorio. I cittadini, per concludere affari immobiliari, sarebbero stati costretti ad accettare l'intermediazione degli indagati, considerate dagli inquirenti come vere e proprie estorsioni. La mafia avrebbe adocchiato un affare anche con l'acqua, soprattutto quella irrigua, da fornire ai contadini. L'acqua sarebbe stata sottratta direttamente alla conduttura San Leonardo, di proprietà del consorzio di bonifica Palermo 2. I responsabili avrebbero deviato l'acqua delle condutture, incanalandola in loro vasche, per poi ridistribuirla ai contadini nelle campagne Ciaculli, Croceverde, Giardini e Villabate. Tanti produttori vedevano la famiglia di Ciaculli quale punto di riferimento per gestire uno dei beni essenziali nella coltivazione. A disposizione del clan ci sarebbe un vero e proprio arsenale di armi. Uno degli arrestati è stato trovato con un fucile da caccia marca Beretta, calibro 12 e otto munizioni nascoste all'interno di alcune balle di fieno accatastate nel maneggio di sua proprietà nella zona di Croceverde e Giardini. La famiglia aveva numerose armi semiautomatiche, gestite e celate nelle campagne di Ciaculli. Queste non sono state ancora trovate. Cosa Nostra sarebbe responsabile del furto di 20 cartoni, con 16.000 mascherine FFP3. Sarebbero state sottratte per rivenderle in piena emergenza pandemica. Parecchi insulti alle forze dell'ordine e a figure cardine dell'antimafia sono stati intercettati. Un boss nel maggio del 2019 nel corso dei preparativi per il ricordo delle strage di Capaci di Via D'Amelio riprendeva il parente di un coindagato poiché voleva far partecipare la figlia alle iniziative scolastiche organizzate per commemorare i giudici Falcone e Borsellino. L'intercettazione era già emersa in passato. Incidente in mattinata lungo la provinciale 74 barra seconda all'altezza dell'abbivio Iannarello a Ramacca. A scontrarsi una furgone e una piccola autocarro. La causa dell'incidente pare sia legata alla presenza sul ceglio della strada di un auto articolato bruciato e abbandonato. Intervenuti i vigili del fuoco di Paternò che hanno estratto i conducenti delle due vetture, una 56enne e una 51enne. I due sono stati portati in ospedale a Paternò in un'altra struttura ospedaliera e non sarebbero in gravi condizioni. Leggermente feriti due passeggeri che viaggiavano con loro di 59 e 22 anni che pari abbiano rifiutato il trasporto in ospedale. E nasce in Sicilia il centro regionale siciliano epidemie e pandemie. Presentato a Roma il CERSEP svolgerà attività di monitoraggio epidemiologico e di formazione del personale sanitario. Vediamo. Realizzare attività di monitoraggio preventivo, addestramento e formazione così da rafforzare e mettere in sicurezza il sistema sanitario regionale da nuovi eventi epidemici e pandemici. È l'obiettivo che ha portato, dopo due anni di pandemia da Covid-19, alla realizzazione in Sicilia del centro regionale siciliano epidemie e pandemie. Il CERSEP, questo l'acronimo del centro, nasce nell'ambito delle attività del CEF Pass di Caltanissetta, presentato nel pomeriggio di lunedì 16 maggio a Roma. Il centro regionale siciliano epidemie e pandemie avrà nella propria struttura un comitato scientifico composto da cinque componenti, indicati dal Ministero della Salute e dai presidenti della regione siciliana, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'Ordine dei Medici di Palermo. All'interno dell'organismo, anche il responsabile delle attività del CERSEP, il direttore generale amministrativo e il direttore della formazione del CEF Pass, il dirigente generale del Dipartimento attività sanitaria e osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale alla salute. Nel corso della presentazione, l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, ha voluto sottolineare l'importanza del progetto, soprattutto dopo l'esperienza vissuta negli ultimi anni con la diffusione del coronavirus. Oltre alle varie attività di alto livello già presenti all'interno del CEF Pass, ha spiegato Razza, la pandemia ci ha fatto comprendere la necessità di essere pronti a far fronte a nuovi eventi pandemici ed epidemici, eventi che richiedono formazione specifica del personale e un monitoraggio epidemiologico ben organizzato. Il compito del centro, ha poi specificato l'assessore, sarà garantire un'osservazione costante e la formazione di tutte le figure professionali, sanitarie e non, che si sono rivelate indispensabili durante l'emergenza Covid-19. Ci auguriamo inoltre, ha infine concluso, che la struttura che stiamo avviando in Sicilia possa pian piano essere al servizio di tutto il mezzogiorno. Adesso ci spostiamo nel territorio della Catanese, in particolare a Motta, dove si registrano dei servizi per l'Ast. Si è tenuto oggi un avvertice che ha coinvolto il dirigente dell'azienda siciliana Trasporti sulla provincia di Catania. Vediamo. Siamo a Motta Sant'Anastasia, proprio all'ingresso del paese. Alle mie spalle la fermata che ospiterà il nuovo capolinea per gli autobus che da Motta viaggiano verso Catania e anche verso Paternò. Momento importante quest'oggi anche perché c'è stata una riunione, si è tenuta una riunione che ha visto protagonisti anche i vertici dell'Ast, in particolare il direttore della sezione di Catania, un incontro per parlare di quelli che sono i disservizi che sono stati costatati dalla cittadinanza, dall'assenza di corse che invece da tabella dovrebbero essere previste, a comportamenti purtroppo scorretti da parte degli autisti. Ovviamente i vertici dell'azienda siciliana Trasporti hanno promesso che interverranno per capire quelli che sono i problemi e risolverli alla radice. Noi ci scusiamo innanzitutto per qualche disservizio che ultimamente stiamo causando e chiaramente noi siamo solidali in tutto, ma ci stiamo sforzando con tutti i nostri mezzi affinché questo lo risolviamo a questo giro di tempo, nel giro di qualche giornata, perché purtroppo si è verificato che ci sono stati un ulteriore guasto che noi non prevedevamo, c'è rottura di autobus, che capita? Quindi abbiamo cercato un po' di sistemare, di non danneggiare non solo Motta ma tutti gli altri posti, ma garantendo sempre gli disservizi, chiaramente sfarsando degli orari non continuativi come erano prima, ma vi ripeto che da parte nostra c'è il massimo impegno a continuare a svolgere il servizio regolare come era stato fatto fino ad oggi. Noi dobbiamo essere presenti e fare il servizio al meglio di tutto, noi dobbiamo fare questo lavoro e facciamo questo lavoro. Siamo adesso stati ammessi, grazie alla Regione, a un ulteriore finanziamento per l'acquisto di circa 28 autobus che credo che entro fine anno dovrebbero esserci consegnati e questo ci potrà garantire già di adempere a quelli che sono i nostri obblighi contrattuali con la Regione e con la collettività. E poi un'altra cosa dolente è quella di dover capire, noi abbiamo bisogno delle risorse umane, quindi devono cercare di sbloccare quello che si è assunzioni del personale che va in quescenza, che è in malattia, che non può più guidare, quindi va sostituito. Se la sente infine di fare una promessa ai cittadini di Motta, insomma a chi ci sta ascoltando, che magari fuisce di questo servizio? Guardi io prendo l'impegno a nome dell'azienda che noi nel giro di qualche giorno risolviamo tutti i problemi, e queste cose che saltano vedrete che sarà un brutto ricordo. E per quegli autisti che si comportano in una maniera non corretta per come prevede il contratto, noi prenderemo seri provvedimenti. Al termine della riunione la promessa, già da domani partiranno da parte degli ispettori dell'azienda controlli su tutta la tratta, presente all'incontro anche il consulente dell'assessore regionale dei trasporti Marco Falcone, Daniele Capuana. Guardi noi ci siamo fatti parte attiva, ho sollecitato l'incontro tra i cittadini e i vertici dell'Ast. E' palese che non vanno tantissime cose a livello di tratta tra Catania e Motta. Abbiamo bisogno di dare veramente delle soluzioni. Spero che il presidente dell'Ast e anche il direttore si facciano carico e dare risposte certe anche ai mottesi. E' stata approvata una norma che prevede l'anticipo delle risorse da dare all'Ast in un'unica soluzione. Ora devono essere i vertici dell'Ast a dare delle risposte certe, come lo fanno anche per le altre tratte, gli altri comuni della provvigia, è giusto che lo facciano anche per Motta e Sant'Anastasia. Un incontro importante per parlare delle problematiche dell'Ast. Motta ha da parecchio tempo, più di un anno, che ha una serie di disservizi dovuti al servizio dell'Ast, proprio come di servizi gravi, tra i quali quelli che non vanno a prendere i ragazzi in alcuni punti della città di Catania o di Mister Bianco, tra cui la via Carlo Max di Mister Bianco, dove i ragazzi rimangono lì fino alle 4, alle 5. Poi ci stanno quelli degli autisti che dicono che hanno caldo e camminano con le botole aperte senza nessun problema. Poi ci sono quelli che non bastano, poi ci sono quelli che i pulmoni più rotti ce li abbiamo a Motta e si fermano e ci sono un altro disservizio. La gente fa l'abbonamento senza usufruire di questo servizio. E torniamo alla cronaca nera. Oltre ai 600 mila prodotti tra CD e DVD e articoli da fumo sono stati sequestrati a Catania, dalla Guardia di Finanza della locale compagnia, perché sprovvissi delle necessarie autorizzazioni, è stato denunciato il responsabile. I finanzieri della Compagnia di Catania hanno sequestrato nel corso dei servizi di controllo economico effettuati nel territorio 4.500 CD e DVD contraffatti e circa 600 mila prodotti da fumo, è denunciato il presunto responsabile. I militari del Comando Provinciale e della Guardia di Finanza di Catania hanno individuato nel centro cittadino Etneo due stand nei quali venivano venduti senza le opportune autorizzazioni tali articoli. Nello specifico, CD e DVD sono risultati essere privi del marchio CIA e insieme agli oggetti da fumo venivano venduti violando le norme che disciplinano i prodotti assoggettati a imposta di consumo e senza alcuna garanzia in termini di qualità e sicurezza. Secondo quanto stimato dai finanzieri, la vendita di tali articoli avrebbe garantito un guadagno complessivo di 13.500 euro. Il sequestro dei prodotti è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. E controlli della Polizia per contrastare la diffusione dell'illegalità nel quartiere di Librino a Catania. Gli agenti del commissariato hanno denunciato 12 persone e accertato 9 casi di evasione dagli arresti domiciliari. Controlli per contrastare la diffusione dell'illegalità a Librino a quartiere di Catania da parte della Polizia. Gli agenti del commissariato locale hanno denunciato 12 persone e accertato 9 casi di evasione dai domiciliari. In particolare una persona è stata denunciata per lesioni personali aggravate, due per furto aggravato, una per ricettazione, una per falso materiale, tre per omessa custodia di beni sottoposti a sequestro giudiziario, una per mancanza della tabella dei giochi proibiti all'interno di una sala giochi abusiva, elevata anche una sanzione amministrativa, una per truffe in concorso, una per abusivismo edilizio e una per mancato rispetto di un provvedimento legalmente dato dall'autorità di pubblica sicurezza. Un uomo è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale, poiché si è barricato nella propria dimora per impedire la perquisizione dei poliziotti. Nel quartiere San Cristoforo un pluri pregiudicato è indagato per spaccio di cocaina e un assuntore è stato sanzionato e sottoposto al provvedimento del ritiro della patente. Sono stati sottoposti ai domiciliari due uomini e una donna condannati con sentenza passata in giudicato. Inoltre due uomini sono finiti in carcere per scontare le pene combinate con sentenze definitive. Denunciate inoltre cinque persone per invasione di edificio pubblico per aver occupato illegalmente cinque garage di proprietà del comune di Catania. In via Legrimaldi gli agenti hanno trovato diverse auto rubate, restituite ai legittimi proprietari, rinvenuti dai poliziotti pure coltelli, pezzi di autovetture, motori verosimilmente rubati, individuati oggetti di valore come compressori d'aria, stivali e una tuta nuova da motociclista intera di colore bianco e arancione e nera, recante alla scritta Stage 6 Racing. E a Maniacio sono state denunciate due persone, si tratta di due brontesi di 33 e 20 anni. Per loro l'accusa è quella di detenere nelle loro auto armi e altri oggetti. Vediamo. A Maniacio i due uomini di 33 e 20 anni, entrambi i brontesi, sono stati denunciati dai carabinieri perché trovati in possesso di armi o oggetti atti ad offendere. Le denunce sono state effettuate a seguito di attività di controllo mirate, eseguite dai carabinieri della stazione di Maniacio, del nucleo radiomobile, della compagnia di Randazzo e del reggimento Sicilia, coadiuvati dai militari della Guardia di Finanza. Controlli resi necessari a causa di alcuni episodi di cronaca verificatisi di recente proprio nel territorio di Maniacio. Numerosi posti di controllo sono stati disposti lungo le strade di accesso e nel centro cittadino e hanno permesso il controllo di 24 veicoli e l'identificazione di 30 persone. Tra questi, un 33enne di Bronte, fermato mentre era alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato e di una dose di marijuana. Denunciato per il possesso dell'arma, è stato anche segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Un ventenne, anche lui di Bronte, è stato denunciato all'autorità giudiziaria perché trasportava nella propria auto una mazza da baseball in alluminio lunga circa 80 centimetri. Doppio incontro per il Galetna per promuovere la conoscenza del bando Bono Sicilia CLLD. Dopo gli appuntamenti della scorsa settimana, Ragalla, Bronte e Catena Nuova, giovedì 19 maggio e lunedì 23 maggio, gli incontri si terranno rispettivamente a Paternò e Belpasso. A Paternò l'appuntamento è alle 17.30 in Biblioteca Comunale, anche per Belpasso. L'evento è fissato alle 17.30 all'interno della Biblioteca della Cittadina Belpassese. Si ricorda che il bando è rivolto ai titolari di microimprese di 8 degli 11 comuni della Galetna. Si tratta di Belpasso, Bronte, Catena Nuova, Maletto, Magnace, Paternò, Ragalla e Santa Maria di Licodia che potranno ricevere un contributo a fondo perduto fino a 5.000 euro. Le istanze devono essere inviate a partire dalle ore 12 del 20 maggio e fino alle ore 12 del 6 di giugno. Sulla sito www.galetna.it potete trovare i codici ATECO che sono ammissibili. E si svolta oggi presso il liceo classico Rapisardi di Paternò, l'ultima delle giornate rapisardiane per l'anno scolastico in corso. Al centro dell'incontro la moda al tempo del bate et neo. Vediamo. Il bate et neo è la moda del suo tempo. È il titolo dell'ultima giornata rapisardiana per l'anno scolastico 2021-2022 nell'ambito delle iniziative allestite al liceo Rapisardi di Paternò in occasione del 110 anniversario della scomparsa di Mario Rapisardi. Altre iniziative sono previste per il prossimo anno. La moda è la considerazione del poeta in Francia al centro dell'incontro di oggi. Questo anno abbiamo sposato questo progetto su Rapisardi, il bate et neo, al quale è dedicato il nostro istituto. Attraverso cinque giornate lo abbiamo studiato e analizzato da tanti punti di vista. Questo ha dato modo di creare un vero e proprio progetto grazie ad uno staff veramente affiatato, veramente produttivo sotto questo punto di vista che continuerà nei prossimi anni attraverso un rapporto sempre più stretto con l'università di Catania, l'università straniere, infatti proprio oggi ospitiamo questo studioso francese e la finalità di questo nostro progetto è quello proprio di rilanciare la figura di Rapisardi che è sempre, diciamo così, stata in parte dimenticata. Sono convintissima che la morale, quindi una coscienza interiore, venga dimostrata dall'abito e ogni momento storico ha degli abiti diversi. Quindi se noi vogliamo un po' capire di più un cultore, un intellettuale, dobbiamo scavare dentro che è un uomo e che non è rimasto lì indifferente alla realtà che lo circonda. Quindi i nostri ragazzi devono capire che la filosofia è anche questa, che il campo storico non può essere trascurato anche nei minimi particolari, anche se noi pensiamo che cucina e moda non siano per gli intellettuali. Non è così, li conosceremo ancora meglio. Se si parla della moda nel periodo rapisardiano, dobbiamo considerare dagli anni 40, 1840 in poi, al 1920, dove l'evoluzione in quel periodo della moda è veramente importante perché si passa dalla belle époque, quindi da un periodo molto vasto, molto concreto, ad una prima moda dove ancora le linee del corpo, specialmente quelle femminili, erano totalmente rotondeggianti, dove c'era quasi una mortificazione corporea perché la donna, ma anche l'uomo, preferivano celare la fisicità, quindi far uscire soltanto quella parte apparente del tessuto, della foggia, della trina, dei pizzi, dei merletti, delle acconciature. Fra le altre cose ricordiamo anche che non c'erano forme nette di make-up, quindi quando si parla di make-up, oggi nel 2022, sappiamo che ogni tipo di abito induce ad una determinata pettinatura, ad un determinato trucco. Quanto è considerato rapisardi in Francia? Per dire la verità pochissimo, pochissimi proprio in Francia, anche nell'ambito accademico lo conoscono. La possibilità di aprire uno studio su rapisardi? Secondo me, ne sono sicuro, sono il primo adesso, il primo ad introdurre in Francia rapisardi, proprio a far conoscere la sua figura, la sua poesia, quindi siamo proprio agli albori di un rapisardi in Francia da spolverare, proprio da riproporre, quindi vediamo. Chiudiamo con un ultimo servizio. Sabato prossimo alle ore 18 a Santa Maria di Licodia si terrà l'evento di mappatura della comunità. Protagonisti i cittadini che metteranno in campo le idee su come migliorare il loro paese. Ad annunciarlo è il presidio partecipativo del patto di Fiume Simeto. Vediamo. Sabato alle 18 presso il Parco delle Consuetudini a Santa Maria di Licodia si terrà l'evento di mappatura di comunità che rientra nell'ambito del progetto Recap Simeto, sostenuto da Fondazione Conil Sud, realizzato in collaborazione con l'Associazione Licodiese Cultura e Progresso. L'obiettivo della mappatura è quello di far emergere le esigenze della comunità di riferimento attraverso l'elaborazione di mappe collettive che intrecciano conoscenze ed esperienze di vita anche al fine di favorire inclusione sociale e coesione territoriale. Protagonisti delle attività saranno i cittadini licodiesi che metteranno in campo idee su come migliorare Santa Maria di Licodia. L'evento sarà anche l'occasione per festeggiare dieci anni di attività dell'Associazione Cultura e Progresso. Quest'anno Cultura e Progresso, dichiara la Presidente Martina Conti Bellocchi, spegne ben dieci candeline. Dal 2012 l'associazione che nasce come un laboratorio culturale di partecipazione civica e cittadinanza attiva è attiva su tutto il territorio licodiese e simetino. Era questo il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito, intanto vi auguro una buona serata. L'associazione Cultura e Progresso